Sicuramente sono partite al nostro livello, è la prima volta da quando siamo in questo giro che ci capita di fare queste qualificazioni. Da quello che conosciamo la Grecia sarà sicuramente quella più dura perché è l'unica con cui abbiamo giocato che ci abbiamo perso. Al resto sicuramente non saranno una passeggiata, quindi vedremo come andranno. Venite da diversi giorni di raduno qui a Chieti, nella casa della Pallamano, che indicazioni sono emerse e com'è il morale della squadra? Il morale è abbastanza alto, vogliamo vincere, vogliamo portare a casa queste qualificazioni, siamo abbastanza contente di come abbiamo lavorato. Le indicazioni sono state soprattutto sulla velocità, rimesse veloci, spingere seconde fasi, quindi proveremo a portare il nostro gioco su questo. Per quanto riguarda il gruppo avremo le nostre assenze, ma sicuramente cercheremo di farle pesare il meno possibile. Tre partite in tre giorni, è chiaro che anche da un punto di vista fisico bisognerà stare attenti a dosare le energie. Sicuramente sì, però diciamo che siamo abbastanza a tutto lo stesso livello, quindi anche il fatto di girare tutte quante, anche con le giovani, secondo me ci danno una grande mano, quindi riusciremo bene o male a rimanere sullo stesso livello anche con i cambi. Grazie. 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 Grazie.